L'unica doppietta stagionale per noi, ad Ailton in profondità per Greco che la tocca, dentro e c'è il pareggio del Genoa con Ivan Juric, subito il pareggio del Genoa con Juric, buttato dentro Diogo ed è stato bravissimo qui Greco a dare questo pallone, splendido pallone in Greco. Molto bravo, Balzaretti in ritardo nella diagonale, lo vede partire ma mai non ci può più arrivare e anche Bungsong non posizionato correttamente. E poi il sinistro di Ivan Juric che trova il gol dell'uno.